se ti regalassi questa banconota da 10 euro la prenderesti immagino di sì ti farebbe comodo perché sai che è una cosa che vale ma se io facessi così e te la regalassi l'accetteresti lo stesso penso proprio che l'accetteresti comunque perché comunque il valore rimane e se io la calpestassi anche la prenderesti lo stesso ovviamente sì perché può essere stropicciata e rovinata finché vuoi ma il suo valore lo mantiene comunque e non vale la stessa cosa per la vostra vita potrete avere tutte le ferite e le imperfezioni del mondo ma il dono che dio gli ha fatto non perderà mai il suo valore inestimabile 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 inestimabile